una fiamma al giorno energie del 18 di giugno scegliete la vostra variante conchiglia d'argento rosa rossa stella chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci le energie del 18 di giugno per tutte le tre varianti oh caspita sì 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 allora qua ci sono inizi d'amore che però devono ancora passare attraverso la consapevolizzazione di un blocco che esiste ancora in voi quindi c'è ancora una ferita che blocca il vostro cammino d'amore il vostro viaggio d'amore lo sta rallentando lo sta appunto bloccando e bisogna consapevolizzarsi di della ferita che sta bloccando tutto e per questo ovviamente vi rimando al lavoro sulle emozioni che vi dico costantemente e qua mi dicono ringraziate e affidatevi all'anima perché tutto sta avvenendo ovviamente se vi affidate all'anima tutto avviene il cambiamento avverrà non non sarà qualcosa di di come dire che dipende da voi nel senso che non dipende da quello che fate ma dipende da quello che lascerete fare all'anima ecco in questo senso e infatti mi dicono lo spirito crea la materia quindi se andate a ripulire da questa ferita la vostra energia l'anima sarà pronta a manifestare questo nuovo inizio d'amore vediamo un po è sì guardatelo qua divina presenza lasciate che l'anima agisca e tutto quello che desiderate avrà un nuovo inizio ma è ovvio che dovete lasciare lasciare che l'anima possa agire con forza e creazione quindi e materializzare la vostra storia d'amore ok qua ci sono ok ok allora qua mi stanno dicendo che situazioni di relazioni passate vengono lasciate indietro e si procede verso quella che è la relazione diciamo quella che in questo momento è sotto la vostra diciamo sotto la vostra attenzione infatti si sta aprendo un nuovo portale ma dovete lasciare libera la mente da tutte le paure da tutti i blocchi del passato quindi lasciatevi indietro al passato continuate a fare in modo che la mente possa essere vuota da tutte le paure il controllo le ferite i blocchi e questo nuovo portale si aprirà per voi vediamo un po eh sì 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 si apre qualcosa di nuovo assolutamente quindi mi raccomando lasciatevi alle spalle il passato eh sì guardatelo qua avete raggiunto un traguardo il traguardo l'avete completato avete concluso il karma quindi adesso siete pronti per il nuovo viaggio vediamo un po per la stella ancora qualche sì ancora qualche tensione ancora qualche problema ma in realtà si sta risolvendo tutto e quindi non temete perché c'è la risoluzione proprio molto vicina ma voi siete chiamati a operare a prendere una direzione come viene da dire se siete ancora in situazioni karmiche dovrete fare una scelta chi è più diciamo eh come dire chi ha ripulito più l'energia sarà proprio portato dall'anima stessa a compiere a prendere una direzione ma appunto qui sta il cambiamento quindi superate l'ultimi gli ultimi ostacoli perché avete proprio la risoluzione a portata di mano eh continuate a fidare ad affidarvi all'anima oggi balbetto eh e eh immergetemi nel suo potere di creazione vedrete che eh la risoluzione di tutto appunto porterà a qualcosa di assolutamente nuovo vediamo un po' eh sì guardate assolutamente nuovo cioè guardate eh sono contratti d'anima ehm diciamo qualcosa che è stato eh stabilito animicamente si sta preparando per voi proprio perché vi connettete all'anima fate la vostra scelta prendete la vostra direzione e in base alla vostra vibrazione c'è lo salto di gradino e quindi arriva il compagno la compagna sì ci sono contratti carmici ci sono incontri di anima gemella ci sono incontri di fiamma gemella in base a quello che è il vostro piano animico ci sono incontri di fiamma gemella per aver guardato il nostro piano animico